Si chiede, faccio una breve relazione di questo emendamento che è simbolico e porta alla voce di una petizione nazionale che è stata promossa dalla Lipu in questo periodo. Faccio una breve descrizione, tra il 2000 e il 2014 la popolazione delle allodole si è ridotta del 45% e sono dati del mito 2000. Quasi 2 milioni di esemplari sono stati abbattuti ogni anno in Italia durante la stagione venatoria, il 73% del totale europeo che si aggira intorno ai 2 milioni e mezzo. L'allodola può essere facilmente poi confusa con altre specie non cacciabili, faccio ad esempio la calandra, la carandrella eccetera, con conseguenti ovviamente problemi di quelle specie non cacciabili. L'Italia quindi ha una grande responsabilità sul destino di questo piccolo volatile dal peso di solo i 40 grammi e quindi la Liguria può essere una promotrice di questa importante campagna di sensibilizzazione promossa poi dalla Lipu appunto a livello nazionale. Si potrebbe magari cancellare, visto che il 19 settembre nel calendario venatorio partirà la caccia all'allodola tra le altre specie, si potrebbe cancellare questo nome dall'elenco delle specie cacciabili. Questo a titolo rappresentativo, poi aggiungo una piccola richiesta se il caso non venisse accolta, visto che ci sono già stati dei precedenti chiedo se si può trasformare in un ordine del giorno eventualmente in una sede successiva e portarlo all'ordine del giorno in consiglio come proposta impegno verso la giunta. Grazie.